Incidente stradale ad Albanella, purtroppo un giovane di 23 anni, Elvis Petrillo, ha perso la vita. Il tragico impatto intorno alle ore 3 di questa mattina in via Roma ad Albanella. Il giovane era la guida della sua Fiat Punto, quando per cause ancora in via di accertamento qualcosa è andato storto e l'auto si è schiantata contro il muro esterno di un'abitazione. Sul posto di carabinieri della locale stazione, con il coordinamento della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, insieme al personale del 118, che ha trasportato ad urgenza il giovane all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove, ricoverato nel reparto di rianimazione, è deceduto poco dopo.